Nicolà Agus, un 1-0 che lascia tanto amare in bocca, sta batte per andare via da Pura con un punto e per ciò che si è visto poteva essere anche meritato. Sicuramente siamo arrivati qua con l'intento di fare una partita di contenimento per via della situazione, per via dei problemi che si sono creati per la Coppa Italia. Avevamo qualche problemino con i nuovi acquisti, Mauro Meloni, Alberto Piloni, tutti gli infermieri in più, Guariniello, che per noi è un giocatore fondamentale, il reparto offensivo che oggi doveva scontare una squalifica, quindi mi sono dovuto un attimino arrangiare, adattare certi giocatori e anche il modulo ho dovuto adattare in funzione dell'avversario. Ecco, un 4-1, 4-1 se abbiamo visto bene da fuori, avete soffocato le fonti di gioco del Pula, le avete tagliato i passaggi e diciamo che fino al gol avete retto bene perché non vi hanno schiacciato né al primo né anche al secondo col vento a favore loro. No, sì, effettivamente sono d'accordissimo, siamo stati bravi nelle coperture, nelle prese di posizione, siamo stati bravi anche ad interpretare questo modulo che ho cercato di provare durante la settimana con tre centrocampisti interni, solitamente io gioco con il classico 4-4-2, gioco con due interni, ho giocato con tre centrocampisti con un play basso e due interni, in destra e sinistra, in più e due esterni. Diciamo che è un 4-5-1, però molto bene, sono contento per il ragazzo, non sono contento sicuramente per il risultato normale. Ecco, infatti, normalmente prove del genere, se concluse con un pareggio danno morale, aumentano l'autostima, la tua squadra è giovane, in campo avevi un centravanti del 97 che si è ben comportato, però comunque rimane la prestazione quella che deve confortare. Sicuramente un'ultima prestazione, ripeto, da una parte sono stracontento perché questo è un test di prova importante con una squadra come il Pula che ha i 4-5 giocatori importanti di spessore, di caratura e niente. Quindi la risposta del test, secondo me, è stata più che soddisfacente. È chiaro che pure il risultato è normale, i tre punti che non arrivano. Però per il resto, sì, è un buon test, è una buona risposta che ci consente di guardare in avanti. Senti Nicola, come si riparte dopo una stagione molto particolare dell'anno scorso, voi avete chiuso con 40 punti, vi siete ritrovati a fare triangolare, play-off, play-out a seconda di quali squadra ci dobbiamo sistemare e poi alla fine è arrivato magari un ripascaggio a rendere giustizia ad un annato perché 40 punti e poi retrocedere è quasi incredibile. Guarda, per me l'anno scorso è stata un'esperienza incredibile anche perché mi sono ritrovato nel vortice dei play-out a 40 punti come stavate dicendo voi. Poi alla fine l'ho chiusa con gli spareggi, l'ho chiusa a 47, quasi 50 punti, ho rischiato fino alla fine l'ultima partita contro il Tonaro dove ho vinto 2-1 e lì ho, come si dice, ho archiviato proprio la promozione e l'ho lasciato a darmi. Sicuramente non è stato facile perché ero la squadra più giovane del campionato in assoluto e imbuttito di fuori quota. Quest'anno lo stesso discorso, tre sono andati via, tre senior vanno via, arrivano tre grandetti di cui non li ho potuti utilizzare, come ho già detto, per problemi di infermeria. E quest'anno ripartiamo con lo stesso organico e con lo stesso progetto, cercando sicuramente di far tesoro di tutti gli errori che si sono commessi nella scorsa stagione, cercando di non ricommendere. Senti Nicola, io sono un buon testimone, questa voce che manca è perché vivi la partita quasi forse ancora un giocatore. Tieni, diciamo, costantemente l'attenzione viva dei tuoi giocatori, li devi richiamare, quando sono giovani bisogna intervenire sempre. Le indicazioni devono arrivare in maniera, secondo me, in maniera continua, perché come dite voi la fascia di età è troppo giovane, è troppo in assoluto. Se poi, come ho detto, per esigenza ne devi utilizzare anche due in più, sei fuori quota, poi diventa bravo. Devi essere tu bravo a dare in continuazione. Io forse poi alla fine magari sono anche esagerato, sono un martello, ma per carattere sono così, però è giusto che le indicazioni arrivino e i correttivi arrivano in maniera continua. Tra l'altro dipende sempre da come lo recepiscono i giocatori. Vedendo sempre dal campo si vede che c'è la buona predisposizione dei giocatori a recepire indicazioni. Quello è fondamentale per voi allenate. Questo è colto proprio un punto particolare. Io infatti ringrazio la squadra che mi dà, come si dice, mi dà quella giusta fiducia, che poi alla fine la fiducia deve essere contraccambiata, nel senso che io devo avere fiducia del giocatore e il giocatore deve avere fiducia dell'allenatore. Loro nei miei confronti hanno completamente fiducia, quindi si fanno guidare in tutto per tutto, quindi anche quando arrivano le indicazioni con un timbro di voce, anche se vogliamo qualche volta anche diversa, alterato, così se vogliamo definire se è giusta la parola alterato. Però loro l'accettano perché hanno capito che devono solo crescere. Questa è una cosa importante. Va bene, Nicola, complimenti per voi alla gara di oggi. Peccato per il risultato. Avrete l'occasione di riscattarvi subito domenica. Grazie, grazie a voi. Buonasera.